Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Oggi vedremo insieme il grande ritorno di un prodotto molto richiesto e tanto atteso. Stiamo parlando del set per zainetto Olli Bolli. Ecco qui il nostro set Olli Bolli. Allora, come vediamo è composto da una patta che ha una misura di 24 x 25 cm. Nella parte in alto della patta troviamo il manico, quindi anche per essere trasportati in questo modo. Quindi una volta applicato al vostro lavoro il risultato sarà questo. Abbiamo poi gli spallacci che hanno una misura che può variare da un massimo di 85 cm ad un minimo di 45 cm, il tutto regolabile grazie a questi regola tracolla. Gli spallacci sono poi collegati al fondo, che ha una misura di 32 x 12. Il foro invece ha una misura di 0,4 cm. Tutto il set è in ecopelle 100% made in Italy. Inoltre, come noterete, il fondo ha il rivestimento in ecopelle solo dal lato esterno, mentre invece la patta è in ecopelle sia internamente che esternamente. Tutti i dettagli, sia delle applicazioni del regola tracolla che della chiusura, sono tutti in un color argento per tutte le colorazioni, mentre invece le cuciture saranno tono su tono. Vediamo ora le colorazioni disponibili. Quella che abbiamo appena visto è la colorazione cuoio. Abbiamo poi il nevi, il bordeaux, il classico nero da abbinare su tutto e per concludere una colorazione neutra, il panna. Abbiamo visto il nuovo set in ecopelle 100% made in Italy in esclusiva per Tessiland. Potrete creare degli zanetti, un accessorio che negli ultimi tempi sta davvero spopolando e diventato, anzi, un accessorio must have. Questo set ha uno stile vintage, una linea molto pulita ed elegante che permetterà di adattarlo a molti progetti. Potrete davvero sbizzarirvi grazie alle diverse colorazioni, anche basiche in cui è disponibile. Potrete quindi realizzare il vostro personalizzato, scegliere i vari colori, quindi potrete scegliere tra tutti i vari cordini disponibili e, perché no, anche tra i cordini con il lurex, di modo da dare anche un tocco di luce e utilizzarlo magari anche per le uscite serali. Grazie anche alla tracolla regolabile potrete scegliere quindi sia come indossarlo e anche adattarlo magari anche a delle creazioni per i più piccoli. Non vi rimane che scegliere l'abbinamento che preferite e mettervi all'opera. Arrivati a questo punto non mi rimane che ricordarvi di attivare la campanella così da non perdere nessuna novità e iscrivervi al nostro canale, ma anche di seguirci su tutti i nostri canali social, la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, Tik Tok e sul nostro blog. Al prossimo Tessila News!